Come si può fare? Quindi chiaramente quello che ci chiediamo noi oggi è se quando avremo raggiunto tutti i pareggi che sono stati programmati e quando ci sarà il famoso pavimento, se ancora le imprese ci saranno e se sul pavimento qualcuno ci cammina. Questo è uno dei grandi enigmi che abbiamo e comunque no, io dico questo chiaramente si apprezzano gli interventi e gli sforzi, questo per dire che apprezzo molto perché il Vice Ministro Martone una delle pochissime volte ha toccato un tasto che è quello che a me sta particolarmente a cuore, che è quello che vi illustrerò tra poco ed in breve, dice abbiamo iniziato anche a piccoli passi a rivedere il contenimento della spesa, l'apparato eccetera. Il problema è che qui è giusto nell'intenzione invece che agire con il bisturi qui bisogna mettere in moto la motosega, cioè non si può più andare avanti a piccoli passi altrimenti rischiamo di metterci veramente tanto. In effetti la giornata di oggi è così importante, ma molto importante e anche inusuale nella sua diciamo conduzione perché ha parlato il Presidente e poi il Vice Presidente Vicario, in genere se parla il Presidente non è necessario. Perché questo? Perché io e il Presidente Agnelli rappresentiamo due anime di due gruppi consistenti di imprenditori che hanno fatto quello che spesso il Governo o comunque le istituzioni non hanno proprio il coraggio di fare fino in fondo. Noi abbiamo fatto delle scelte, abbiamo detto che i sistemi di rappresentanza, qui l'ha detto prima il Presidente Agnelli, del comparto economico e produttivo, in particolare del manifatturiero, in particolare dell'economia reale, che per 50 anni hanno fatto da controparti istituzionali al Governo, in pratica hanno fallito come sistema. Sono dei sistemi superati e questi imprenditori, manifatturieri e di economia reale, perché è questo che noi siamo, nel nostro nome qualcuno ha svolto rappresentanze e è andato a tutelare un non so che che non era quello che volevamo noi. Noi abbiamo un problema, un'assunzione di responsabilità, ce lo siamo detto, ci siamo svegliati un po' tardi per mettere in discussione i nostri sistemi. Ma oggi, meglio tardi che mai, il problema è che se l'Italia si trova in questa condizione, punto uno, noi responsabilmente diciamo che non è soltanto responsabilità della politica, perché chi per 50 anni gli ha fatto da contraltare istituzionale ha la sua dose di responsabilità e che si deve prendere. E mi riferisco in particolare a chi per 50 anni ha preteso di rappresentare da solo il mondo economico di questo Paese. E quindi questa è una responsabilità che si devono prendere e noi che veniamo da un sistema di rappresentanza che abbiamo messo in discussione abbiamo fatto una cosa. Oggi il Paese è bloccato, è arrivato a un punto tale per cui nessun processo può andare avanti. All'architettura istituzionale di questo Paese deve essere rimessa in forte discussione. Ma prima di chiedervi questo noi abbiamo detto, dichiariamo prima guerra noi alle nostre burocrazie, perché le nostre associazioni si sono trasformate in 50 anni in dei paraministeri e questo comparto produttivo, manifatturiero, che oggi da luogo a confimi impresa, un coraggio di 20.000 imprenditori, che non sono pochi per chi è considerato quelli che rimangono, speriamo di rimanere tutti 20.000, voglio dire, hanno oggi compiuto un passo importantissimo in questa direzione e non nasce una nuova organizzazione perché è una delle tante, nasce un'organizzazione che ha gli obiettivi precisi, un'organizzazione che se ha messo in discussione le burocrazie che si erano generate nei nostri sistemi e li abbiamo dichiarato guerra, noi rifaremo un modello per il futuro, che è un modello leggero, dinamico, con pochi costi di struttura, con grande efficienza e soprattutto rappresentanza politica istituzionale per chi? Per colui che produce, perché colui che produce oggi è stato, diciamo, sia immesso in un vortice che lo porta al deterioramento e che automaticamente porta al deterioramento anche un'altra cosa importante di questo paese, che è la classe media, perché la classe media di questo paese è nata perché le piccole e medie imprese, il mondo di colui che produce, il mondo manifatturiero, però ha fatto sì che nascesse una classe media ricca e che ridistribuisse ricchezza che oggi, in questo momento, si è innestati in un vortice di retrocessione. Allora noi diciamo che cosa dobbiamo fare per far sì che chi produce continui a produrre e che questo grande valore per una società che è rappresentato dal mondo produttivo sia al centro delle politiche di governo e che di conseguenza quindi si possa salvare e quindi mantenere il grande valore di una società che è la classe media di un paese. Che cosa bisogna fare? Giuste le politiche di rigore, giusti i sacrifici. Noi vogliamo pagare le tasse, lo diceva il Presidente Agnelli, quelle giuste. Noi siamo disponibili a fare sacrifici, ma vogliamo vedere un impegno serio verso lo smantellamento di un'architettura istituzionale che è troppo pesante sulle spalle di colui che produce e che ci sta affossando. Questo è quello che vogliamo vedere. E qui sinceramente un governo come quello attuale che teoricamente non avrebbe mai dovuto pensare al consenso o speriamo che non pensi al consenso come invece magari ha portato un governo di emanazione puramente politica sbagliando, se ha una lungimiranza aveva e dà l'autorità per prendere e per proporre delle decisioni importanti in questo senso. Solo così noi potremmo far sì che i nostri figli forse non saranno più poveri di noi. Oggi sicuramente lo sappiamo. E per questo il mondo economico, produttivo, manifatturiero di questo Paese dice oggi inizia un nuovo cammino, avete un nuovo interlocutore istituzionale su queste basi e credetemi, per noi non è utopia. Noi ci crediamo e quindi se abbiamo dichiarato guerra alle nostre burocrazie adesso possiamo autorizzare a dichiarare guerra alle vostre. Grazie. Grazie.